Beh, bisognerebbe portare a Trump o a tutti quelli che pensano che è la stessa cosa una persona che si è ammalata di Covid e di influenza, così glielo può spiegare bene. Comunque, i dati dicono questo, che l'influenza colpisce al massimo, cioè la contagia al massimo due persone, mentre la contagiosità del Covid è di 3,8. Ogni anno in Italia con l'influenza stagionale si ammala il 10% della popolazione, quindi sono circa 6 milioni. L'1-2% finisce in ospedale. Nel momento clou del Covid in ospedale c'è finito fra il 15 e il 20%. Ora, il numero di morti, la media di morti per l'influenza stagionale ogni anno è di 8 mila. Nel 2015-2017 è stata particolarmente cruenta ed è arrivata a 24 mila nell'arco dell'anno. Bene, da marzo a maggio i morti per Covid sono stati 35 mila. Grazie.